Siamo qui con Alessi e Vancolle. Alessi hai disputato una partita gradevole, anche il tuo gol è stato di pregevole fattura, è direttamente su punizione, è direttamente da te conquistato. Vogliamo sapere le tue impressioni riguardo la partita e riguardo appunto la tua squadra. La partita è stata dura perché hanno giocato bene loro, ma noi abbiamo anche giocato bene rispetto alla scorsa partita, ci siamo migliorati molto e il gol è stato un bel gol, una punizione con una via di azione. Ecco, invece Vancolle, secondo te cos'è che si può migliorare della squadra, comunque del vostro campionato? No, secondo me partita dopo partita miglioreremo perché comunque siamo metà squadra che non si conosceva tra di loro, quindi dobbiamo migliorare sui passaggi e sul gioco di squadra appunto. Però questo è normale che si migliora partita dopo partita. Allora, in bocca al lupo per il proseguimento del torneo. Grazie. Grazie. Grazie.